Open Source Intelligence, che troverete anche come acronimo OSINT. Di cosa si tratta? È una raccolta di dati che in genere fanno gli analisti, gli investigatori o chi deve fare una raccolta di informazione e fa questa raccolta di informazioni su quelle che sono fonti pubbliche, quindi andremo a vedere tutto quello che sono le fonti pubbliche. ebiospo.com, come dice nella sua home page, raccoglie informazioni linkate alla mail senza lasciare traccia. Cosa fa questo signore qui? Se vuoi gli date una mail, lui vi tira fuori tutti i dati che possono essere associati a quelli mail. Posizione, map, quindi perché ci sono in alcuni casi quando viene creato l'account viene presa anche la posizione. L'ultima, quando è stato creato, l'ultima volta che è stato visto attivo, eventuali cellulari collegati alla mail, tutti i social network sui quali questa mail è attestata. Anche questo strumento potete usarlo free, poi ci sono servizi a pagamento ovviamente dove vi danno ancora dettagli maggiori e ancora voglio dire ovviamente possibilità anche qua di automatizzare le ricerche. Il tema è che queste informazioni sono disponibili in quella rete, questi strumenti, questi software ci aiutano semplicemente ad essere più efficaci, fare delle ricerche più veloci e l'OSINT, diciamo, è una tecnica che consente a chi deve fare delle ricerche o chi deve fare delle investigazioni, voglio dire di raccogliere dei dati, organizzarli in un report e questo voglio dire con questi strumenti sicuramente fate mondo più velocemente.